Bentornati, buongiorno. Pace bene, oggi 14 gennaio ricordiamo San Felice di Nola. Ascoltiamo. Felice nasce a Nola nel III secolo da una nobile famiglia e mentre il fratello scelse la carriera militare lui si consacrò a Cristo come presbitero. Durante l'ultima persecuzione contro i cristiani il vescovo di Nola abbandonò la città rifugiandosi in un deserto e lasciando Felice come suo successore. Il santo venne imprigionato e torturato ma poi liberato da un angelo che lo conduce dal vescovo moribondo rifugiato nel deserto lui lo cura e lo riconduce a Nola. Durante la sospensione della persecuzione Felice può riprendere il suo ministero che purtroppo durerà poco perché una nuova oppressione lo costringe alla fuga rifugiandosi in una cisterna disseccata dove fu alimentato da una pia donna senza essere riconosciuto per sei mesi. Con la pace di Costantino nel 313 Felice ritorna a Nola dove rinuncia alla successione del vescovo Massimo non conosciamo l'anno della sua morte che probabilmente risale agli anni successivi alla pace di Costantino del 313. Anche se non era stato ucciso San Felice è stato sempre venerato come martire perché aveva molto sofferto e aveva avuto miracolosamente salva la vita. Anche San Felice visse in un contesto molto complicato il contesto delle persecuzioni ai cristiani. Cos'è una persecuzione? Una persecuzione è un periodo storico in cui i cristiani sono oggetto di violenza a causa della loro fede. Con il potere, con la forza, ma soprattutto la violenza, con l'omicidio si cerca di metterli a tacere. Certo pare difficile pensare che ai giorni nostri possano accaderci ancora queste cose. Noi nei nostri ambienti qui siamo fortunati perché in effetti il clima si è addolcito e noi cristiani qui non rischiamo di essere torturati o comunque uccisi per la nostra fede. Comunque riceviamo a volte una certa ostilità ma non arriva alla violenza o micidia e di questo dobbiamo ringraziare il Signore. Però se spostiamo il nostro sguardo un po' più in là possiamo accorgerci come ci ricorda molto spesso Papa Francesco che la violenza contro i cristiani non è un qualcosa del passato, un qualcosa di molto molto attuale e lui stesso ci racconta una storia molto toccante quando ha parlato nella Basilica di San Bartolomeo sull'isola Tiberina e proprio racconta la storia di quest'uomo che gli ha riportato la sua esperienza personale. Lui era un rifugiato dell'isola di Lesbo, un papà di 30 anni che racconta ero con la mia famiglia, con mia moglie, quando i terroristi ci hanno presi. Mia moglie aveva il crocifisso al collo quindi hanno scoperto che eravamo cristiani. Allora le hanno ordinato di levarsi il crocifisso e di buttarlo per terra. Lei non l'ha fatto, l'hanno uccisa davanti ai miei occhi. Questa fratelli e sorelle è una storia dell'attualità e sono tanti tantissimi cristiani che vengono uccisi per la loro fede, perseguitati per la loro fede. Preghiamo per loro, stringiamoci a loro che stanno sopportando la tortura per difendere ciò che per loro è tanto prezioso. E per quanto riguarda noi, in un mondo in cui il credere è un po' scontato, che brutta figura, voglio usare questo termine, facciamo quando per esempio abbiamo paura di manifestare la nostra fede in questi contesti dove effettivamente non rischiamo la stessa cosa. E allora forse la nostra fede merita di essere rispettata di più anche da noi stessi. Per questo ci affidiamo al Santo di oggi e lo preghiamo. San Felice prega per noi. Grazie.